Nome e cognome Nome e cognome è Gabriele Anzaloni, nome pubblico è Red Ronny Chi era Ronny Petterson? Ronny Petterson era il più veloce pilota della Formula 1, non ha mai vinto nulla perché non sapeva fare i contratti Non avrei mai immaginato che anch'io sarei diventato così veloce ma che non so fare i contratti Ronny Petterson era un pilota di Formula 1, ma Red Ronny che lavoro fa? Come definisce la sua professione? Red Ronny è un tramite, strano dire, sono un tramite nel momento in cui sono io il protagonista e sto parlando Io non è che amo molto fare le interviste, io amo fare le interviste dove io intervisto Sono un tramite, tant'è vero che lo stesso programma è Bibo a Palù, la puntata numero 0 io non ero in video, io stavo dietro la telecamera Ti consideri un intervistatore o un intrattenitore? Intervistatore, io non sono un intrattenitore Però fai programmi di intrattenimento, quindi come risolvi questa equazione? Perché purtroppo la televisione ha bisogno anche di questo, ma forse per me io farei solo interviste La cosa che mi piace di più è andare in giro con la mia telecamera, incontrare le persone e farle parlare, quella è quella che mi piace di più Qual è l'intervista che ricordi con più piacere? L'intervista più importante della mia vita, stranamente non è a Keith Richard, Paul McCarty, Frank Zappa o Fidel Castro Ma è a William Condon che era un pittore che è morto una settimana dopo e mi sono trovato a intervistare uno spirito Cioè era già distaccato al corpo, tutte le volte che rivedo quell'intervista mi fa un effetto molto strano Perché tutte le volte apprendo qualcosa di più Qual è l'intervista che ricordi con più dispiacere? L'intervista che ricordi con più dispiacere è a Van Morrison Lui se ne è andato via quattro volte durante l'intervista, mandandomi a quel paese Ma all'inizio proprio, per me era un disastro ma in realtà dicono che sia un capolavoro Ma a te quanto veramente piace la musica? La musica è qualcosa di incredibile Oggi a distanza di tanti anni non ho più tanto tempo per poter ascoltare la musica che vorrei Per questo mi sono inventato delle dirette notturne su Mansions dove faccio il DJ e insieme ascoltiamo dei brani Ho un programma come in Idol dove racconto un brano e me l'ho provato a riascoltare Però la musica mi ha salvato dalle solitudini quando ero piccolo e quindi è stata importantissima Cosa più importante Come nasce la tua passione per la musica abbinata all'audiovisivo? Io sono nato come fotografo e quindi ho amato moltissimo l'immagine C'è chi dice che perché da piccolo i miei andavano in campagna e mi mettevano seduto sul seggiolone davanti alla finestra E guardavo fuori, se mi andava di culo passavo una gallina Dopodiché mi cominciavano a stare strette le foto E mi ricordo che ebbi il primo videoregitore portatile, un VHS collegato a un cavo, con la telecamera collegata a un cavo E lì ho documentato il primo Bologna Rock, delle strane cose eccetera Un bravo intervistatore deve essere per forza amico degli artisti? No, io ho fatto interviste bellissime, è chiaro che anzi quando sei amico non c'è più niente da dire Infatti io non voglio mai che uno mi racconti prima le cose Io con Fidel Castro parlavo come potevo parlare con te adesso Per me sono tutti uguali, le persone sono tutte uguali Però nei tuoi programmi vedi spesso musicisti che sono tuoi amici? Sì, sono musicisti che sono i miei amici perché sanno che di me si fidano, si possono fidare Nel senso che a me non interessa, adesso verrà Cristiano D'Andrea, non mi interessa fargli domande sui casini che c'ha Mi interessa fargli domande su come artista Perché Redroni ha sempre avuto un rapporto complicato col mondo della musica Inteso sia come music business che come media musicali? Ma sai perché non ne faccio parte, è molto semplice Io mi ricordo un anno che mi chiamò un mio amico che voleva la classifica dei 5 migliori canzoni di quell'anno Per il Mucca e Selvaggio E io gli dissi, tra i 5, gli dissi Karma Camillion dei Culture Club E lui mi dice no, questa non te la metto, ti sputtani Dico ma perché? No! Dico ma scusa, ma non è una barcazzola? Certo io in macchina l'ascolto te sempre Ma se la recensisco la devo stroncare Io ho cominciato a fare giornalismo musicale lavorando in banca Quindi cosa significa? Significa che io non dipendevo dal giornalismo musicale Quindi potevo scrivere in libertà Era un periodo in cui tutto era fantastico Non potevi dire che un disco scendeva in classifica Potevi dire solo se saliva Mi ricordo una volta che scrissi che batteato non ne fregava niente del pubblico E allora mi chiamò Michele Di Lerni Lo posso dire perché siamo amici Della EME mi disse Ma come ti permetti di scrivere che ne frega un cazzo? Dico perché non è vero Certo che è vero Abbiamo preso il tuo articolo e abbiamo fatto vedere Hai visto che si vede che non te ne frega niente? Quindi questo era il giornalismo in cui mi muovevo io Un giornalismo indipendente Attenzione Quando feci Bandiera Gialla Venne il dirigente di una casa discografica Prima che iniziassi Bandiera Gialla Dici cosa hai venuto a fare? Dice A negoziare con te il passaggio dei nostri artisti E dici in che senso? Nel senso che ti diamo i soldi Per il percentuale dei dischi venuti Dico ma io non li voglio Dice come non li vuoi? No Però io voglio scegliere chi mi pare E dopo venne un giornalista Tanto lo posso dire Tanto lui ha detto che faceva il corrotto Mario Luzardo Fegis Che mi disse Ma tu lo sai che tu stai pubblicizzando gratis un disco Di cui io ci guadagno Perché lui quando è venuto a Mr. Fantasy Noi abbiamo preso le edizioni E dico adesso con te Eh sì ma non si può fare Andare avanti così Tu sputtani il mercato La frase io sputtani il mercato Me l'hanno detto parecchio Capisci perché poi non sto simpatico Visto che hai nominato Fegis Lui ha scritto un libro E uno spettacolo teatrale Che si intitola Io odio i talent show E lui li odia Perché dice che gli hanno tolto potere Anche tu li odi per lo stesso motivo? No A me non mi frega niente il potere Anzi me ne è andato di più Perché? Perché tutti quelli Che non possono andare ai talent Perché fanno pezzi propri Che non li vengono da me A me i talent non piacciono Perché non permettono ai ragazzi Di esprimere le proprie emozioni Un ragazzo esprime le proprie emozioni Dipingendo o scrivendo una canzone Se tu vai in Italia Ti mi costringi a cantare Una canzone di Prince Una canzone degli anni 60 Di Rino Gaetano 70 O eccetera Non permetti a me Di scrivere le mie canzoni Se anche io vengo a un talent Sperando di arrivare in finale Dove posso fare il mio inedito Non sarà il tuo inedito Ma sarà l'inedito Di un autore di canzoni Che ha un contratto editoriale Con quelli che gestiscono il talent Quindi alla fine La tua canzone non la farai mai Quanto ti è costato E quanto ti costa Essere un outsider? Non ci ho mai fatti calcoli Perché mi spaventerei Non ti sei mai pentito Di essere un outsider? No Perché sono stato disegnato così Ho avuto il programma di successo Una rotonda sul mare E ne sono scappato Ho avuto il programma di successo In Italia di Dominicaini Alla fine Non è il successo numerico Che ti fa felice Sono altre cose Quanto sei cambiato negli anni Come professionista? Ti senti più bravo Come intervistatore? E se sì perché? Beh inevitabilmente Perché hai più esperienza Cioè se io rifacessi oggi Avessi l'opportunità Di fare oggi le interviste Che facevo allora Avrei fatto diverse domande Perché nel frattempo Hai una consapevolezza diversa Io già allora Privilegiavo l'istinto Io non sapevo mai Che domande fare Hai capito? Cioè io non è che Andavo con le domande scritte Non ho mai scritto Una domanda in vita mia Solo una volta Ho fatto la domanda Di riserva Quali sono i tuoi hobby? Quando mi sono trovato Davanti a una signora Da Connor Completamente fusa Che era prima in tutto il mondo Con Nothing compares to you Peraltro di Prince Ed era in una depressione totale La prima con cui ho detto Grazie Ho chiuso l'intervista Dopo 15 minuti Perché non sapevo più cosa dire Tu fai parte della Rock Generation Che di questi tempi Sta perdendo molti dei grandi maestri Quali delle morti rock Ti ha colpito di più E che riflessione ti ha portato a fare? Tutte mi colpiscono Perché ti sembra impossibile Che ti telefoni e dire È morto Lucio Dalla O è morto David Bowie O è morto Prince O è morto Pino Daniele Ti sembra impossibile Però è inevitabile D'altra parte Tutti questi hanno dell'età E hanno fatto una vita Che non è che fosse Una vita molto semplice Il problema è che Togli un volume enorme Dalla biblioteca della musica Ok rimangono i dischi Ma dalla biblioteca viva Dalla musica E non lo sostituiscono con nulla Cioè con chi lo sostituisce Disci Prince Con i Colors Con Stash Hanno scientificamente distrutto La musica E il potere della musica Se avesse ancora tra le mani La chitarra di Hendrix Che cosa fareste? Assolutamente nulla Perché l'ho avuta per le mani Ho chiesto di fare un museo E non me l'hanno fatto fare Perché in Italia La cultura funziona così Abbiamo dei soldi Non chiamiamo qualcuno Che sia in grado Di fare una cosa bella Con quei soldi Che abbiamo a disposizione Dalla comunità No Chiamiamo l'amico Il colluso Il cortigiano Gli diciamo Inventati un'idea Per arrospare questi soldi Quindi Bologna Per 15 anni Non mi ha fatto fare Una mostra del rock Me l'ha fatta fare Milano In Piazza Duomo Dopodiché Bologna Mi ha ritenuto un traditore A Bologna Hanno fatto una roba Dedicata a Frank Zapp Non hanno chiamato Redroni Che era un po' amico Di Frank Zapp Che ha passato Un paio di giorni con lui Che c'ha delle interviste No Hanno chiamato un fotografo Loro amico Che aveva fatto delle foto A Frank Zapp Il mambo di Bologna Ha detto di no Al mio museo Che poi è andato In Piazza Duomo Però ha comprato Una cifra altissima Al museo di David Bowie Cioè va bene Ce l'avevate in carcere Redroni a Bologna Non l'avete fatto Questa è La realtà Hai capito? Sarebbe Jimi Hendrix L'intervista numero uno Tra quelle che avresti Sognato di fare? Sì Sicuramente Sicuramente Jimi Hendrix Sicuramente John Lennon Sicuramente Jim Morgio Cioè Jenny Job Cioè quelli che non ci sono più Che avrebbero tanto raccontare Quando uno mi dice Ti sarebbe piaciuto Intervistare Battisti No Perché siccome Battisti L'ho visto Da arbore Ed era un pomburino Non gli potrei Cioè io posso intervistare uno Se penso di potergli dare Qualcosa di più Se tu oggi avessi 20 anni Faresti ancora L'intervistatore? Non lo so Probabilmente no Probabilmente farei un'altra cosa Farei 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 lo youtuber Stanno abituando le persone A guardare il nulla Quindi tutto ciò Che non ha contenuto E youtube Sta allevando gli youtuber C'è gente stipendiata Che faccia molte visualizzazioni Che non lasciano tracce Perché non lasciano tracce Oggi c'erano cagnolini I gattini Che sono top of the chart Questa è la stupidità di oggi